Noi diciamo no al crocifisso negli ambienti pubblici, no al presepe negli ambienti pubblici. Anche i laici del veneziano contro i crocifissi, tutti simboli religiosi cristiani nelle scuole, municipi e prefetture, solo per citarne alcuni. Ma non basta stop anche alle recite natalizie che parlano della natività. Se vengono cantate nelle scuole pubbliche, sì, perché la scuola pubblica è laica. Per i laici italiani vale il detto o tutti o nessuno, pertanto a loro avviso con Gesù deve essere esposto il Messie ebraico insieme a Mahometto, Krishna, per gli hindù e altri simboli religiosi. In ragione di una lunga riflessione della Corte Costituzionale che ritiene sbagliato una interpretazione di laicità come neutralizzante della spiritualità a favore di una laicità aperta a tutte le confessioni e su un piano di pari diritti e pari dignità, sulla base di questa riflessione abbiamo chiesto che vengono affissi a tutte le pareti delle aule scolastiche tutti i simboli religiosi. Diversamente il crocifisso va tolto perché simbolo di prevaricazione, dicono. La rimozione è l'unico simbolo religioso, il crocifisso, in quanto emblema di sopraffazione sulle altre confessioni religiose. Atei anche contro l'assessore Elena Donazzan e il bando regionale con cui premia le scuole che realizzano il presepe. Invitandola a non approfittare del suo ruolo istituzionale per imporre dei pensieri che sono esclusivamente personali.